passiamo alla seconda forma di tutela applicabile al design ed è quella mediante diritto d'autore ne abbiamo già parlato quando abbiamo commentato alcuni di voi hanno letto e commentato il caso della vespa e infatti nelle slide viene l'ho riportato però c'è una sentenza che forse è ancora più indicativa proprio perché in quella sentenza il giudice ha spiegato come si può andare a verificare la presenza del valore artistico all'interno di un'opera di design l'abbiamo già detto la durata è di 60 anni della morte e non 70 questo lo dice l'articolo 44 del codice della proprietà industriale già detto inutile tornarci molto comunque i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti con diritto d'autore durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del sessantesimo anno solare dopo la sua morte i due requisiti sono questi creatività perché comunque quello vale per tutte le opere tutelate dal diritto d'autore il carattere creativo o creatività che è scomposta poi in originalità e novità deve cioè emergere l'impronta personale dell'autore innovativa rispetto ad opere analoghe già note il valore artistico invece che cos'è è inteso come quell'ingrediente estetico particolarmente distintivo e raffinato tale da far rientrare l'opera nella fascia alta delle opere di design quindi quelle opere di design che poi trovate al museo del che ne so del design museo di arte moderna e contemporanea museo dell'automobile museo della motocicletta e via dicendo quindi quando arrivano ad un livello di particolare distintività particolare raffinatezza e entrano in fascia alta allora possono diventare opere creative in senso pieno come è successo alla vespa ecco la sentenza che vi citavo prima è una sentenza abbastanza importante e anche apripista perché è recente del 2013 insomma siamo nel 2020 quindi non è che parliamo di secoli fa però se ci pensate è anche una delle prime che è riuscita a chiarire seriamente questo tema perché la normativa sulle opere di design tutelate come opere di diritto d'autore come opere artistiche è dell'abbiamo detto degli anni primi anni 2000 2001 in Italia e quindi poi ci vuole il tempo per arrivare a una sentenza cioè le sentenze arrivano quando qualcuno ha fatto qualcosa di notevole che genera quindi del contenzioso genera una causa e fa sì che poi i giudici la prendano in mano e arrivi una sentenza questa è una corte di appello quindi vuol dire che c'è stato tutto il primo grado e poi c'è stato l'appello ergo questa più o meno è una non è una non è la primissima però è una delle prime che in cui i giudici hanno potuto finalmente esprimersi e dare un'indicazione 2013 ci sta sono 10 anni circa 10 12 anni sono 12 anni dopo l'entrata in vigore della norma però diamo un po di tempo perché il mercato si assesti poi ora che partono le cause i tentativi di conciliazione tra avvocati e il primo grado il secondo grado non è così strano che siamo arrivati a 2013 questa sentenza corte d'appello di Milano appunto è la 100 1716 del 18 aprile 2013 è il caso Cassina contro Alivar e Galliani e si legge questo poi ripeto se volete andare a leggere la sentenza è assolutamente interessante e capite anche chi sono i due soggetti che litigano si parla di questioni di design di arredo se non ricordo male comunque il riconoscimento del valore artistico ad un'opera sia essa figurativa letteraria o musicale non può che derivare almeno inizialmente da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati esperti dei singoli rami dell'arte i quali molto spesso fanno da apripista al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini tale giudizio deve protararsi per un arco temporale tale da escludere le suggestioni e infatuazioni del momento guardate che bellissimo è veramente molto molto raffinato come ragionamento questo del giudice del giudice di milano quindi per capire se c'è valore artistico innanzitutto non è non è certo l'autore a dire questa per me è un'opera d'arte e quindi io vanto un diritto d'autore perché se lui sta facendo un'opera di design si sta muovendo come designer non come scrittore o come musicista o come scultore è un lavoro diverso però a posteriori a posteriori che può essere fatta come può derivare da una valutazione che vedete è fatta prima dalla comunità degli appassionati esperti dei singoli rami dell'arte i quali spesso sono sono precursori hanno un occhio lungo e vedono prima se c'è davvero talento e creatività e valore artistico in quell'opera di design molto prima che arrivi sull'impatto dei cittadini io quando vi ho detto quando abbiamo parlato del caso vespa insomma la vespa è diventata tale perché è diventata un'icona così nazionale popolare per cui è stato riconosciuto valore artistico sì però perché la vespa la cala la sentenza è arrivata l'anno scorso nel 2019 per una cosa che è stata disegnata negli anni bu la vespa cos'è degli anni 40 50 probabilmente il primo disegno quello più famoso è quel modello degli anni 60 e quindi è diverso nei casi in cui siamo nei casi un po più recenti si va a vedere si va a interpellare l'esperto di design dell'automobile l'esperto di design della moto l'esperto di design della scarpa per capire se lì c'è qualcosa di così raffinato di così elevato che possa essere considerato artistico prima ancora che arrivi il la diciamo accettazione generale della conferma generale da parte dei cittadini degli utenti generali del prodotto però dice tale giudizio deve protrarsi in un tempo sufficiente da escludere le suggestioni infettazioni del momento cioè deve essere un fuoco fatuo una cosa che ha avuto quel mese quell'estate lì si è parlato solo unicamente di quello ma deve essere una cosa che poi ha avuto un impatto duraturo l'attribuzione questo è sempre dalla sentenza l'attribuzione di un'opera di un'opera sullate l'attribuzione ad un'opera del valore di opera d'arte come la storia insegna agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di di persone di cultura particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico sia delle correnti socio culturali alle quali l'artista si ispira e alle quali l'opera è delle quali l'opera è espressione ciò si verifica soprattutto quando un'opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e di conseguenza non comprese dalla massa del pubblico ma apprezzati da critici illuminati ciò posto quando un'opera viene esposta in musei o in gallerie d'arte non commerciali non si può non riconoscere che ad essa dalla comunità che ad essa dalla comunità dei critici delle persone culturalmente competenti del ramo nonché di gusto raffinato sia stato attribuito il valore di opera d'arte capite che siamo sul terreno davvero molto 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 scivoloso nel senso che vedete che entrano in gioco tutta una serie di valutazioni che sono molto molto soggettive bisogna andare a capire che cosa cosa si intende per critico cosa si intende per esperto d'arte e quali sono le gallerie i musei che sono di valore perché ci sono anche le gallerie del che ne so della parrocchia la sala in cui vai a fare l'esposizione di foto qua si parla di un livello che deve essere nonché di gusto raffinato competenza ci andiamo su dei piani che non sono facili da valutare per un giurista e infatti le cause in materia di design non dico che non le giudica il giudice ma le giudica l'esperto però diciamo che la parte di perizia la parte di perizia tecnica da parte del i vostri professori anzi questo sarebbe utile cioè io se fossi giudice di firenze e devo giudicare se c'è stata una violazione di un design e valutare se in quel design c'è stato anche dal valore artistico chi è che possa incaricare incarico fumelli incarico qualcun altro c'è qualche esperto qualche direttore autorevole dell'ISIA qualche docente autorevole dell'ISIA in quanto esperto di design riesce a valutare più di un altro se lì c'è o non c'è c'è quel valore artistico che l'occhio di un giurista o di un chimico o di un geometra non riuscirebbero a cogliere io l'ho visto dove mi sono occupato più del mondo musicale spesso gli artisti gli artisti grandi innovatori della musica sono morti sono morti morti nella ancora nella poca fama nei pochi soldi perché quando sei troppo avanti quando sei così rompi gli schemi e sei così avanti spesso non vieni apprezzato subito dal pubblico ma vieni riconosciuto dopo e però appunto magari l'esperto di musica di un certo settore dice subito guarda che quello farà strada guarda che quello avrà aperta ha aperto un nuovo filone aperto un nuovo filone nuovo stile la stessa cosa succede nell'opera di design di creatività più che altro figurativa che è quella di cui voi avete con cui voi avete più confidenza interrompo